Bentornati, bentornati a tutti amici, camerate, comunisti, bentornati dall'Eccelso in questo nuovissimo video Mamma mia, sono sudatissimo e stanchissimo, una partita veramente... Una vittoria del canale, come ha detto qualcuno in live alla fine, una vittoria del canale, una vittoria del canale Ragneri schiera al Cagliari come consigliato dal sottoscritto, perché siamo a stretto contatto Però effettivamente ha messo la formazione che avrei messo anch'io, tranne Nandez, che ha fatto la cappella Perché Nandez si è perso l'uomo sul gol, Nandez che continua a... vedi non l'aveva affatto Nandez continua a sbagliare di tutto fondamentalmente, recupera dei palloni importantissimi, corre tantissimo Ma sbaglia letteralmente tutto, Nandez sbaglia tutto quello che si può sbagliare in campo Ed è un giocatore che ha una retorica a favore, clamorosa rispetto a quelle che sono le prestazioni E oggi abbiamo un giocatore che oggi fa una doppietta, che gli viene giustamente, ingiustamente Diciamo che se consideriamo giustamente annullata è perché la Padula è un pirla Se è ingiustamente è perché è ingiustamente annullata Perché il gol avrebbe fatto lo stesso anche senza quella roba di Altare Altare che ha... Altare... Altare che ha sofferto tantissimo Ha avuto veramente, lo sapete, abbiamo fatto dei video Ha avuto veramente un feedback dai tifosi di un certo tipo in passato Dopo mesi di prestazioni incredibili, totali, il giocatore migliore di questa squadra, il capitano di questa squadra fondamentalmente Ha avuto un trattamento veramente cattivo Cattivo, lo sapete, senza andare ad approfondire oltre E oggi Altare fa vincere il Cagliari Perché poi il gol di la Padula arriva sull'inerzia di quel gol annullato d'Altare Quella cattiveria che vuole il Cagliari Che si è visto annullare due gol Ad una spalla che ha sempre in qualche modo fortuna Insomma, in queste partite qua Poi la spalla ha giocato secondo me anche bene Quindi voglio dire complimenti a loro che ci hanno messo in difficoltà Qua abbiamo l'interesse della Padula che ha fatto un gol che non sa neanche lui come l'abbia fatto Ha fatto una partita indecente La Padula che soffre tantissimo la mancanza di una punta fisica vicina Vabbè, vittoria importantissima, grazie al cazzo Quindi voglio dire, ripeto Oggi è la vittoria di questo canale ed è la vittoria dei deboli È la vittoria dei Nuzio Lella, dei Cristos Curfalidis, dei Giorgio Altare Dei Gabriele Zappa che è entrato e alla fine ha preso un incrocio È entrato con una cattiveria, con un agonismo, con una serietà, una professionalità totale Anche lui un altro sempre criticato, bistrattato, insultato Di tutte ne ho sentite dire a Zappa Io verso Nandez che oggi, andate a vedervi le statistiche Io non lo guardate ma ne sono sicuro perché ho visto la partita con grande attenzione Guardate Nandez quanti passaggi ha sbagliato oggi Guardate Nandez quanti passaggi ha sbagliato oggi E guardate cosa poteva fare con quei passaggi Fosse stato un giocatore lucido e serio Oggi è una rivincita veramente di tutti i giocatori bistrattati Ma dello stesso Luvumbo, perché poi il signor Luvumbo è scomparso Ma il gol del Cagliari, il primo, il colpo di testa di Altare Deriva da un recupero di Altare clavoroso in scivolata Riparte l'azione, Luvumbo salta l'avversario Viene steso e da lì c'è il cross E assist di Curfalidis Nuzio Lella che per me ha fatto un primo tempo molto importante Percorso a sacrificio, palloni non ne ha mai sbagliati Sono veramente, veramente soddisfatto di questi qui Molto meno, manca molto meno, manca la squadra nel resto degli interpreti E io lo dico anche oggi, ritratto un po' le mie posizioni sulla rosa Cioè la rosa ad oggi, io inizio ad avere dei dubbi che sia una rosa competitiva per le prime 3-4 posizioni Io non so bene le rose degli altri, non mi pare abbiano dei fenomeni Io so solo che la rosa del Cagliari con questa assenza totale di mercato Giocando con due punte e non avendone praticamente Tranne la Padula, la Pavoletti e il Fortunato Ad oggi, il 27 gennaio, la rosa del Cagliari è fortemente deficitare Quindi, cioè, ripeto, oggi se fosse finita 1-1 Le colpe principali non avrei date né a Ragneri né alla squadra Che la squadra comunque con 10.000 difficoltà, con 10.000 problemi Ci ha provato, ci ha creduto e oggi ci ha sempre provato Poi, ripeto, con i problemi soliti di lucidità che manca uno all'altro Perché, come al solito, non siamo lucidi Però, vabbè, insomma, non è che possiamo pretendere manco tutto ad un tratto L'avrei data alla società la colpa La società deve, l'aveva detto Ragneri, serve anche la società E la società non c'è E la società non c'è E non c'è mai stata Perché è inaccettabile che da anni certi giocatori con certi procuratori Facciano, rilascino certe dichiarazioni Perché a voi possono fare ridere Perché magari quel giocatore vi sta simpatico Ma certi giocatori, in altri contesti Dovessero fare delle dichiarazioni del genere Li prenderebbero, li butterebbero fuori Gli cancellerebbero il nome subito dall'armadietto Solo a Cagliari possono succedere queste cose Quando non c'è una società che non sa fare calcio E questo è il nostro esempio Poi la partita, ripeto Cioè, ragazzi, poco da dire Abbastanza raccapricciante Però, secondo me Stavolta le tempistiche delle sostituzioni Sono state corrette Forse leggermente prima avrei tolto Lubumbo Che mi sembrava veramente stanco di fare quel gioco spalla alla porta Però mi sono piaciute Mi è molto piaciuto l'ingresso di Zappa Io avrei tolto Nandez, ripeto, però ci può stare Che tolga Alella E altre cose Da dire Mi è piaciuto molto Rogue come entrato Sono rimasto perché pensavo di vedere un Rogue molto passivo Invece ho visto un Rogue veramente voglioso Cattivo Strappi Sempre presente nei contropiedi Veramente un 15 minuti di partita del vecchio Rogue Questa è una nota che voglio sottolineare Perché è importante Falco Ha fatto il suo Doveva essere più lucido Anche lui Diciamo È stato quantomeno presente Che c'è un qualcosa Poi lucidità Falco ormai l'ha persa da 10 anni A quanto pare Però Vabbè Dai non è un problema Altre cose Ci sentiamo domani con Pagellazzi E E voti Cos'altro Cos'altro posso dire Ripeto Altare Grande partita Dossena Ideme No Ecco Mi stavo dimenticando Una menzione va fatta Perché spesso l'abbiamo criticato Ma Capradossi Ha fatto vincere questa partita al Cagliari Anche lui Perché Capradossi Ha fatto Cioè ha fatto Involontariamente Quindi adesso gli diamo dei meriti Anche molto sarcasticamente Ha fatto una parata Al 93esimo Deviando il pallone dalla porta Un pallone che era destinato ad entrare Ha fatto veramente Ha salvato il risultato Quindi bravissimo Capradossi Degli altri insomma Non mi soffermo a parlare A parlare di tutti Vabbè Macumbo raccapricciante come sempre Per quanto mi riguarda Vabbè Ne parleremo meglio domani Con votazzi E E Commenti aggiuntivi Un bacione Ciao a tutti